Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto fotocamere digitali Reflex Pentax Carati 50 a fotocamera. Pentax Carati 50 ROGE dal 18-55WR dal 50-200WR. Sensore CMOS formato APS-C da 16, 49 megapixel ad alta sensibilità con filtro di colore primario. Sistema Shaker Eduction basato sullo spostamento del sensore immagine compatibile con tutti gli obiettivi Pentax. Mirino a pentaprisma in vetro, copertura 100, circa 0,92x, tempi di otturazione da 1.6000 secondi. A 30 secondi. E posa B. Scatti continui, circa 6 fps, i lunga PEG, circa 3 fps, i lunga PEG, funzione HDR, alimentazione con batteria l'Iono AA per mezzo di un adattatore optional. Formato file foto, i lunga PEG. 16M, 12M, 8M, 5M RAU. 16M. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.